www.morizopoli.it Eccoci qua, la settimana che si conclude è la settimana della Global Money Week Proteggi il tuo denaro e metti al sicuro il tuo futuro è lo slogan di quest'anno della Global Money Week Abbiamo partecipato con Giuseppe Ondelli come educatori finanziari AIF, la Sessione Italiana di Educatori Finanziari a degli eventi in collaborazione con Economic Talk a Brescia all'istituto SRAF abbiamo incontrato più di 300 studenti delle superiori sempre su queste tematiche della Global Money Week inoltre in collaborazione con Settimanale Mondo Badano come da tradizione eccolo qua in edicola e anche in digitale su www.mondobadano.it inserto Economia e Lavoro nella rubrica Risparmi e Finanza nuovo articolo eccolo qua di Giuseppe Ondelli e si parla proprio protezione futuro approccio responsabile e informato nell'utilizzo degli strumenti e servizi una buona lettura e una buona Global Money Week proteggi il tuo futuro